Musica La fine d'Ostra si evince che chi fare per una squadra con mentalità renda più forti e più belli Lei cosa ne pensa? Agri Scusi, dicono che fra i tifosi Chavesi ci sono troppe testera salve Lei cosa ne pensa? Agri Panini Scusi, dicono che tifare per la Cavesi aiuta meglio anche a prepararsi alle vacanze, è vero? La Cavesi, buon paese. In vista del derby a Salerno, amplieranno il porto per aiutarci ad attraccare meglio. Lei cosa ne pensa? La Cavesi, buon paese. Bravo! Seguire la Cavesi e scrivere delle sue gesta rende più informati e quindi delle persone migliori. Lei cosa ha da dire? Acavite! Acavite!